salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di iniziare voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche voglio anche ricordarti di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti ma adesso non perdiamo altro tempo cominciamo il primo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in una stalla il video mostra un cavallo infastidito da una strana creatura creatura che in un primo momento si potrebbe pensare essere un qualche tipo di insetto se non fosse per alcuni strani particolari del corpo di questo insetto che sembrano appartenere a una creatura fatata o ad un qualche essere venuto da un'altra dimensione una guardia di sicurezza nota qualcosa di strano apparire su uno dei monitor in una delle zone che sta sorvegliando all'inizio la guardia incomincia a pensare che ci sia qualcuno e decide di andare a controllare ciò che viene filmato ha dell'incredibile ma andiamo a guardare il documento in il passio è questo di qui è questo di qui e che credo non c'è nessuno 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 mettere la lampara qui vedendo così alla per che vean che non c'è nessuna toma di luci o algo nessuno nessuno ovviamente nella seguente è stato ripreso da un esploratore urbano imbattutosi per caso in una grotta dove al suo interno riprende una strana creatura che tenta di nascondersi mostrando solo gli occhi che opinano std conchettumare a who are you? I'm not going to do anything, tranquillo notare nada Conchetumare Stoic nervio l'uomo del filmato è un attore e viene ripreso mentre rilascia una sua intervista durante il filmato però sia il cameraman che l'attore non si accorgono della strana presenza che si manifesta proprio vicino a loro ciò che viene filmato a dell'incredibile ma andiamo a guardare questo documento in francia un giovane decide di esplorare una piscina abbandonata durante la sua perlustrazione si imbatte in qualcosa di spaventoso uno strano essere dalle sembianze umane viene ripreso dentro una specie di scabuzzino la creatura infastidita dalla torcia del ragazzo incomincia a muoversi a quel punto il ragazzo decide di dileguarsi e fuggire via da quel posto il più velocemente possibile il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare questo documento Oheddha! 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 Oh! L'assassanon o'pa? Nostia! T'essura? Oheddha! Oh ceoooh! E anche per oggi è tutto ragazzi Il video finisce qui Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti I vostri pareri su questi filmati Io vi saluto e come al solito Ci rivediamo alla prossima Ciao 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 Ciao